Sindaco, questa maggioranza traballa sempre di più, ma non è il caso magari di azzerare tutto e cadere con le armi in mano presentandosi davanti al Consiglio con una maggioranza diversa tutta sua? Guardi, io non credo che questa maggioranza traballa sempre di più. C'è una maggioranza che discute anche in maniera, come dire, animata. Ma magari io mi sarei comportato in maniera diversa, però poi insomma con la lista civica mi sono sentito ieri, un po' con tutti i rappresentanti e le loro intenzioni non erano sicuramente quelle che poi si sono di fatto palesate, ma era quello comunque di aprire una discussione insieme a una maggioranza che comunque ha bisogno di chiarimenti sicuramente. Prima di giugno questo ormai è inevitabile? Io direi assolutamente sì, tant'è che ho detto che il confronto, mi si chiede il confronto, il confronto c'è sempre stato, perché insomma abbiamo sempre parlato, abbiamo sempre discusso, il confronto c'è sempre stato, ci continuerà ad essere, però è importante prima del confronto. Anche in considerazione del fatto che ci troveremo a fare delle scelte difficili nei prossimi mesi, quelle del bilancio saranno scelte davvero difficili perché le risorse sono sempre meno e le esigenze sono sempre di più, allora c'è bisogno che ci sia una maggioranza forte. Quindi questo dovrà passare attraverso un confronto politico, attraverso un confronto amministrativo, attraverso una verifica che avevamo detto di fare, ma che insomma inizieremo a fare da subito. Ma questa coalizione esiste ancora? La vittoria di una, esiste, esiste, la vittoria di un sindaco che ci ha messo sempre la faccia a volte anche per gli altri, allora il sindaco in questo momento, il sindaco sono io, questo hanno detto i cittadini terramani, c'è una coalizione, una coalizione che discute ma vedremo, ripeto, io l'ho detto tante volte, non devo ricoprire questo ruolo a dispetto dei santi, c'è una maggioranza, c'è una voglia di andare avanti, c'è una voglia di rispettare il mandato degli elettori, sì, bene, si va avanti. Lei ha detto, non stentiamo a crederle, che le bugie non le ha dette mai, allora vediamo se la dice questa volta, in questo momento lei di chi si fida? Io mi fido di tutti, io mi fido di tutti perché tutti, anche nella giornata di ieri, mi hanno dimostrato e mi hanno dichiarato la loro presenza all'interno di questa maggioranza.